ciao ragazzi e ciao ragazze nuovo video temu come vi avevo detto stava arrivando sono arrivati praticamente due ordini tutti nello stesso pacco infatti mi era arrivata scusate aggiusto la frangia una notifica sabato notte del primo pacco e l'altra mi è arrivata lunedì mattina al che ho detto blin stanno arrivando e sono arrivati insieme infatti il pacco era talmente grosso che ora non so perché la roba non c'entra più cioè si è gonfiata una volta uscita dal pacco e pesa un botto e quindi niente ve la faccio vedere così allora un prodottino che ho preso ce l'ho qua l'ho pagato 1 euro e 79 ed è bellissimo raga è un cazzillo per appoggiare il telefono quando io tutti i giorni mentre mi trucco guardo i video e li appoggi su sto cosino qua ma è bello poi lo puoi girare come vuoi e sto cosino qua appunto nero costava un euro e 79 colorato lo pagavi tipo un euro in più però carino già nero quindi chi se ne frega l'ho preso nero e la sua scottolina è questa qua infatti vedete c'è anche rosa tipo di un sacco di colori vabbè poi allora mi sono appena sbeccata un'unghia quindi sono abbastanza infastidita da tutto ciò perché ho aperto un calendario dell'avvento e quelle cavolo di caselle erano talmente dure mi sono sbeccata un'unghia quindi mi girano già però cercherò di essere il più carina ecco colosa possibile parte ora vi ho mosso e si muove tutto l'ambaradà partiamo con cose random perché appunto sono tutti acquistini ho preso due borse una è la dentro ma sono identiche cambia solo il colore questa è bianca e azzurra l'altra è bianca e nera devo dire la verità me le aspettavo molto meglio queste qua sono l'unica cosa che non ricomprerei di tutto quanto perché perché uno sono super sottili due sono state tutte schiacciate nel 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 pacco diciamo quindi come vedete mi sono rimaste tutte delle pieghe che magari col tempo passano perché ora ero intenzionata a riempirle di plastica e a farci e a farci diciamo prendere una forma umana però secondo me tipo anche qua vedete queste righe secondo me è perché sono state tanto schiacciate quindi insomma queste le ho pagate poco perché le ho pagate tipo 3 euro e 90 luna una roba del genere sì magari le utilizzerò però non non ne vale la pena quindi borsette bocciate poi prodottino invece che mi è piaciuto tantissimo è un capo d'abbigliamento questo è per me a calcolate che all'interno del sacco ci sono anche tanti regali di natale pensierini che come ho già detto faccio amiche colleghe quant'altro perché quest'anno ci siamo date tutte un budget super low cost di massimo 5 euro per cui cazzatelle da regalare a natale e questa me la sono presa per me non ricordo sinceramente quanto l'ho pagata e non molto cioè ora mi sfugge proprio il prezzo devo essere sincera sicuramente sotto i 10 euro ma non mi ricordo quanto comunque è una maglia fatta così con lo scollo strano infatti sta cosa dello scollo un po mi perplime perché non mi ricordavo che rimanesse proprio così però addosso veste molto bene perché aderente e poi alla parte dietro lunga e davanti rimane aperta il laccettino che vedete spuntare si lega ad un altro laccettino laterale che fa un po effetto fiocchetto devo dire addosso raga è molto carina il tessuto è bello è una mezza stagione e mi piace mi piace molto questa con un leggings aderente nero anche magari lucidino fa la sua porca figura è veramente veramente caruccia quindi bella questo la mettiamo lì altro capo di abbigliamento che ho preso per me questa volta allora bella in foto dal vivo il tessuto è meraviglioso caldissima però c'è un però è pagata poco pagata 12 13 euro taglia small però cioè questi cinesi sono diventati alti di bot perché raga è enorme nel senso la manica è giusta la manica giusta mi arriva qua quindi la manica ci sta è la small la manica le spalle anche più o meno sono giuste il disegno è bellissimo la stampa è fatta molto bene ovviamente da lavare quindi postro picciatella ed è fatta vestito quindi dietro più lunga e davanti un po più corta devo dire un po larghina cioè per essere una small io comunque sono piccola ve la faccio vedere cioè veste bello larghino ok non è una roba che vi cade aderente ovviamente essendo un felpone rimane morbido però un po più morbido di quello che mi aspettavo poi ha un mega collo come potete vedere che però non fa da cappuccio perché non arriva a farvi da cappuccio rimane un mega collo morbido che voi poi gestite come vi pare lo potete girare lo potete accorciare accorpare un po così insomma lì ve la vedete voi però devo dire molto carina molto bello il colore molto bello il tessuto molto calda super felpata se vi piace come idea per starvene a casa sul divano a guardare le serie tv con i pop corn è molto figa io me la metterò sia per questa cosa guardate come felpatina dentro cioè caldissima sia per questa cosa sia per andare a lavorare perché a me tipo questa sotto il piumino con un bel leggings pesante e l'anfibio mi piace e tanto io poi lavorare mi cambio quindi sti cazzi cioè mi serve solo per arrivarci a lavorare per cui molto molto carina poi andiamo avanti allora qua ho incorpato un po di roba tutta insieme perché ho anche tantissimi orecchini vi faccio vedere uno dei tanti regali che ho preso non lo apro perché non voglio rovinarlo è un marsupio no vabbè ve lo devo far vedere aperto tanto per fortuna si aprono senza rovinarsi queste bozze è un marsupio raga io ce l'ho molto simile l'avete visto in un altro video ed è fatto così questa catenella poi si tiene davanti e all'interno il marsupio ha la sua tracollina la tracollina è nera con le scritte love 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 ve la ricordate l'avete vista nella mia la mia colorazione se non sbaglio era più grigia era sempre leopardato ma più freddo questo è un leopardato un po più oro infatti anche la catenella è più dorata della mia e devo dire super carina ed è un regalo che farò a un'amica e mi piace tanto cioè lo trovo veramente un bello oggettino anche da portare così devo dire la verità cioè volendo uno lo può portare anche a braccio e ciaone però ho messo come marsupietto da portare addosso tanta roba sia per andare a bere una cosa sia per andare fuori la sera lo trovo molto carino quindi con una minima spesa avete una massima resa in questo caso perché è un regalo davvero caruccio e appunto comodo e ottimo poi andiamo avanti ora però il casino sarà mettere poi a posto tutta questa roba vabbè ho comprato un'altra cosa per me questa volta un altro cerchietto come avete notato mi è presa la pipa dei cerchietti fatti di capelli questo qua ora lo apriamo perché non l'ho ancora aperto devo capire se il colore è giusto perché non riesco a capire dove è l'apertura ecco là ok allora mi sembra leggermente più chiaro dei miei capelli porca loca quell'altro è un po' più scuro cioè questo è un po' più chiaro raga porca di una miseria porca mi sa mi sa che mi tocca regalarlo perché ahia non non si sposa col mio colore di capelli porca miseria era così carino o aspetto l'estate prossima è leggermente più chiaro non si nota magari più di tanto però è leggermente più chiaro però raga sono proprio carini sti affari vedrò cosa farne e al momento lo rimetto nella sua bustina l'intreccio è stupendo veramente bello e vediamo cercherò di capire se qualche amica ha questo tono di castano e glielo passerò perché su di me rimane troppo chiaro cioè troppo sussì troppo chiaro forse la mia amica Manu potrebbe starle bene lo tengo un attimo da parte e vediamo poi andiamo avanti ho preso un addobbo per l'albero questo di nuovo per me perché non so se voi la fate questa cosa ma io ogni anno aggiungo un addobbo all'albero almeno uno uno barra due barra tre quest'anno ne aggiungerò uno perché porta bene è una cosa che mi è sempre stata detta da bambina e io l'ho sempre fatta e quindi quest'anno ho comprato lui da appendere all'albero che è un gremlins raga aspettate che sta fermo un attimo sto coso ma cioè ma guardate la tenerezza è troppo carino e quindi niente mi prendo questo robino e me lo schiaffo sull'albero di Natale di quest'anno bello poi ho preso un completino intimo questo qui mi sono anche sputata addosso che meraviglia questo qui perché ho mangiato i confetti poco fa e ce li ho ancora un po' in bocca e l'ho preso taglia media non sono molto convinta di aver azzeccato la taglia perché ne avevo già comprato un altro ma mi era grande però direi che a guardarlo mi sembra di sì che vada bene comunque il sopra è fatto così un po' sportivo un po' così senza imbottitura con i laccetti e il sotto è fatto in questo modo ora poi me lo proverò ovviamente non con voi e vedremo non mi fa troppo impazzire sto per i zoma fatto strano così però per 3,50 euro tipo chi se ne frega ho detto vabbè lo proviamo e vediamo com'è e quindi questo è mio alla fine regali regali poi un botto di roba è la mia vabbè andiamo avanti ho comprato dei cucchiaini e voi direte ma come mai i cucchiaini da soli perché sono stupida questo è oltre alle borse questo è l'altro acquisto che non avrei dovuto fare nel senso che nella foto c'erano delle tazze a forma di gatto a forma di testa di gatto con questi cucchiaini nella mia testa l'acquisto era tazza più cucchiaino nella realtà se avessi letto mi sarei accorta che erano delle coppie di cucchiaini in vendita praticamente dei cucchiaini con la capoccia da gattino ok neri e bianchi quindi ho pagato una cifra secondo me assurda per 4 cucchiaini perché ho speso più di 10 euro per 4 cucchiaini e me li posso piantare dove non batte il sole perché non ho la tazza da abbinarci tra le altre cose ho provato a cercarla su Temu la sua tazza non c'è non esiste le ho trovate su Amazon America e non le comprerò mai perché mi toccherebbe pagarci la dogana quindi cercherò delle tazze da abbinarci perché queste erano un'idea regalo con tutte le tazze il problema è che non posso regalare solo i cucchiaini mi fa ridere quindi devo trovare delle tazze nere e bianche per abbinarcele ma è una gioia poi passiamo un'altra cosa per me questo è un portafogli mi serviva? no però era carino sì costava poco sì e potrebbe essermi utile magari un domani sì e quindi l'ho preso ed è un portafoglietto piccino vedete che non è tanto grande però di quelli molto compatti che lo schiaffi in qualunque borsetta anche quelle più piccole comunque ci stanno un sacco di cosine i soldi le carte quindi ho detto ma sì prendilo ma prendilo e l'ho preso rosso perché è più facile da trovare poi in borsa io e le mie faturnie e tra le altre cose ne stavo anche guardando altri meno male che mi sono accorta che l'avevo già ordinato poi andiamo avanti qui abbiamo una carrellata di orecchini cercherò di non perdermi troppo ho preso altri cerchi colorati e dorati perché quelli argento li ho già presi li ho anche già indossati e sono molto carini poi orecchini natalizi ora qua ne ho solo una confezione ma ne ho altre sparse da qualche parte comunque orecchini natalizi questi sono i miei ma ne ho comprate altre confezioni da regalare queste sono i miei perché? perché c'è l'omino di pan di zenzero e sono i fiocchetti che mi piacciono troppo troppo li trovo carinissimi quindi questi li tengo per me anche se come potete vedere qua ho altri orecchini di natale e so per certo di averne un altro paio che ho comprato proprio l'anno scorso da mettere a natale che non ho mai messo quindi non so quanti orecchini natalizi potrà mettermi quest'anno dura solo un mese periodo di natale io cercherò di metterli il più possibile poi altri orecchini vabbè ho comprato un porta chiavi con un iniziale perché è da regalare poi ho preso degli orecchini a fiore non so se si vedono raga ma sono bellissimi non rendono per niente in camera vediamo no non si nota raga mi dispiace perché sono proprio belli sono tipo trasparenti con degli svaroschini ovviamente finti e il fiore di metallo ma sono proprio carini e poi ho preso due paia o tre ora non mi ricordo uno o due no sono due così due paia così perché uno è mio e l'altro è da regalare e aspettate che li apro i miei due paia così e un paio simili ma con le stelline allora oddio mi vuole la fattia ok questi sono da una parte la rosa dei venti non si vede una sega come un jour finesse buongiorno principessa mi avrebbe detto il mio fidanzato allora da una parte c'è mamma che meraviglia la rosa dei venti con il brillino al centro ed è un cerchietto piccolo di quelli che piacciono a me dall'altra c'è una luna con tutti i brilli anche lei che tenerezza cioè sono proprio carini raga gli orecchini di Temu io boh non so voi ma me li comprerei tutti quindi ho preso un paio di questi per me un paio di questi da regalare e poi un paio simili ma con le stelle fatti uguali ma con le stelline molto 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 carini molto e quindi mi piacciono un sacco proprio e farò fatica a regalarli perché li vorrei tutti per me porca miseria che egoista che sono come direbbe qualcuno vabbè non riusciamo a perdere i ricordi e andiamo avanti con altre cosine allora poi altri regalini ho preso un pigiamino sempre regalino questo il pantalone è fatto così molto carino e il sopra è fatto così pigiamini estivi perché erano più belli di quelli invernali guardate che tenerezza molto 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 carino quindi questo poi lo rimettiamo a posto il pantaloncino mi fa impazzire a me così a scacchi a scacchi vabbè a quadri poi ho preso altre altre scarpe uno per me è uno da regalare quelle da regalare direi che sono queste perché sono un po' più grandi le mie sono più piccine il modello è lo stesso il colore è diverso praticamente è un sandalo è infradito la parte sopra è di tessuto tipo scamosciatiello molto carino e rimane così sul piede io lo trovo estremamente carino comodo perché comunque sono morbidine e molto carino sì mi piace questo colore appunto è quello che devo regalare a qualcuno non dico a chi perché se no qua gli spoiler di Natale sono dietro l'angolo quello chiaro è il mio io l'ho preso più chiaro beige con le pallette nere molto 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 carine poi ho preso un paio di pantaloni che non sono un ni cioè sono un ni anzi quasi un no devo dire la verità non me li sono ancora provati ma mi vergogno un po' perché ok zia sunta perché io sono del team zia sunta ma forse è un po' esagerato comunque è un pantalone estremamente leopardato ok che con un total black si può usare vediamo lo proverò magari appunto con un bel felpone nero di quelli lunghi e l'anfibio se no me lo metto come pigiama e sti cavoli poi andiamo avanti altro regalo ciabattine pelose che ovviamente non dico a chi perché sennò spoiler ormai l'avete imparato anche voi questa è l'altra borsetta la versione nera di quella di prima che vi dico peccato perché poi sono carine però sono state maltrattate e quindi sono tutte spiegazzè e ho paura che non tornino in gran forma pur mettendoci la plastica dentro vedete che ha fatto le pieghe proprio in alcuni punti e quindi è proprio un peccato mi sa che mi toccherà tenermele e le userò io l'estate prossima magari non lo so sono un po' così per per queste ora vediamo vediamo come utilizzarle poi ho preso altri regali delle magliette allora questa io raga non mi ricordo per chi era cioè io ieri pensavo e dicevo ma per chi cacchio l'ho presa la taglia L perché bene o male le mie amiche sono tutte piccolette di busto e ora ho un vuoto assoluto su chi può essere questa che ha preso la taglia L che poi di spalle non sono così larghe però sono molto svolazze questa è carina perché c'è scritto hello gorgeous e ci sono gli occhi così bella rossa natalizia ovviamente ecco perché è rossa e vediamo poi a chi regalarla perché vi dico non mi ricordo assolutamente per chi cazzarola era quindi la metto qua poi la rimetto in una sua busta ho preso un'altra magliettina taglia small colore nero questa volta questa mi ricordo per chi è per fortuna e c'è scritto queen su questa ed è molto carina ovviamente è tutta stropicciata però è molto carina nera con la scritta queen e mi piace la trovo bellina e ora la metto a posto e provo anche a piegarla in modo mezzo degno mezzo e poi qua i minuti scorrono il mio cellulare non so quanta memoria ha perché ho già un video da da caricare altra ciabattina pelosa questa è identica a quella dell'altra volta però più grande che è un regalo l'altra magliettina questa volta bianca nella taglia media altro regalino il materiale è molto bello raga è molto spesso e la magliettina è così molto molto carina taglia media morbida bellina questa volta bianca appunto quindi la mettiamo via subito prima che la sporco che non è il caso direi e poi andiamo avanti con una carrellata di accessori ovvero tre confezioni di orecchini natalizi un altro come quello di prima col pacchettino e altri similari con altri orecchini sempre di natale rennine gnoni cavoli vari e due collanine che trovo troppo belline col quadrifoglio uno argento e uno rose gold molto molto carina e semplice di quelle sottili che piacciono a me anche queste sono regali me le terrei ma sono regali monica sono regali bene detto ciò raga abbiamo finito questa carrellata infinita di temu vi mando un bacione gigantesco vi ricordo come sempre di condividere spolliciare per far crescere il canale e cliccare la campanella per non perdere la notifica ad ogni video chiudo perché ho paura che la batteria ci abbandoni e fatemi sapere se avete fatto acquistini temu anche voi e come vi siete trovati vi mando un bacio grande e ci vediamo alla prossima ciao